La Pistoia dei Rally può guardare con entusiasmo e positività alla seconda parte della stagione, quella decisiva. Thomas Paperini e Simone Fruini, equipaggio di casa nostra, hanno definitivamente archiviato l'uscita di strada accusata al Rally Regione Piemonte, conquistando il terzo gradino del podio nel confronto della GR Yaris Rally Cup ambientato sulle strade del Rally San Martino di Castrozza. Un appuntamento che lo scorso weekend ha chiamato al via anche un altro equipaggio pistoiese, quello composto da Alessandro Ciardi e Alessio Natalini, settimi sulla GR Yaris Evo di MC Sport. Per Paperini e Fruini, la MASH Trentina è valsa la consapevolezza di poter puntare al titolo, con i prossimi appuntamenti in programma, il Rally Mille Miglia, il Rally Sanremo ed il Rally di Monza, che coinvolgeranno ancora Lion Motor Events ed FP Sport, nuova realtà di Casal Guidi. Come ho detto per noi era importante fare bene, fare punti, comunque sia in campionato siamo sempre terzi, mi sembra cinque punti da facco, quindi siamo con uno scatto già fatto, quindi siamo a un buon punto, adesso ci proviamo per bene per Brescia. È un campionato che a livello qualitativo sta esprimendo molto di più rispetto alle ultime edizioni. Sì esatto, come ho già detto al ciocco anche Alba, il livello è veramente alto, infatti abbiamo tre vincitori in tre gare diverse quest'anno, quindi ci sarà da battagliare sempre fino a un fondo e poi vedremo chi riuscirà a spuntarla.